Buonasera ai nostri telespettatori, questa sera parliamo di sicurezza in montagna. La montagna, come sappiamo, in ogni stagione presenta delle insidie, non si può essere superficiali affrontando anche una semplice gita fuori porta in montagna. Bisogna avere delle precauzioni e delle attenzioni. Abbiamo ospiti in studio questa sera per parlare di questo problema, Alessandro Bacchioni che è il presidente del CAI, del club alplino italiano della nostra città, Emanuele Stefanelli che è un istruttore nazionale del CAI ed è anche il capo stazione del soccorso alpino di Carrara e della Lunigiana e Riccardo Micheli che è il responsabile della comunicazione del CAI della nostra città. Come dicevamo parliamo di sicurezza, visto che il tempo in questo momento porta all'attenzione il tema vogliamo parlare in particolare della sicurezza sulla neve. Il tema della sicurezza è un tema davvero significativo che non va sottovalutato. Presidente, il CAI ha anche tra i suoi scopi quello di dare sfogo alla voglia di andare in montagna ma di farlo in grande sicurezza e quindi anche uno scopo educativo. Certamente, uno degli scopi principali del CAI è anche quello di educare un corretto approccio verso la montagna. Parlare di sicurezza, la sicurezza è un concetto che è abbastanza utopistico nel senso che non avremo mai la sicurezza assoluta. Quello che possiamo fare è avere una preparazione adeguata, avere un'attrezzatura adeguata e prepararci bene per una giornata in maniera tale che la giornata resti bella e non sia entristita da cose che possano capitare. A questo proposito, ciclicamente, svolgiamo anche delle giornate di sensibilizzazione sui sentieri e sulla neve proprio per insegnare a prevenire quello che può capitare. Ecco, quindi il CAI in realtà può anche accompagnare, può organizzare le gite in montagna, le escursioni, ci aiuta a leggere il paesaggio che abbiamo intorno e di farlo davvero con grande sicurezza. Fate delle giornate specifiche, una è stata fatta anche recentemente, proprio quella sulla sicurezza sulla neve. Stefanelli, perché queste giornate che ci aiutano a evitare i pericoli, insomma, in qualche modo? Sì, la giornata di cui faceva riferimento è stata fatta il 15 gennaio in tutta Italia. È nata come idea del soccorso alpino, come progetto del soccorso alpino, per fare prevenzione. Poi è stata appoggiata dal CAI, dal Club Alpino Italiano, è stata appoggiata dagli accademici e da altre associazioni su neve valanghe. È una giornata per cercare di sensibilizzare le persone ad andare in montagna con preparazione, che preparazione significa non solo preparazione tecnica, ma programmazione anche di quello che uno vuol fare come gita, come salita, come come meta, insomma. Quindi è una giornata che serve per prevenire i pericoli della montagna e nevata. Ecco, insomma, non ci si può, non si può improvvisare un'escursione in montagna. Bisogna ragionarsi. Non è sufficiente prendere un panino, una borraccia e partire. Bisogna avere qualche attenzione in più. Sicuramente sì. Diciamo che l'80% di una buona riuscita di un'escursione è la programmazione. Quindi quello che è lo studio a tavolino. Quindi studiare l'itinerario, informarsi sulle condizioni della neve, del tempo, il clima che ci sarà, programmare a livello cartografico e poi prepararsi per l'escursione che uno vuol fare. Quindi si parte dall'abbigliamento che deve essere nel periodo invernale sicuramente fatto a strati, quindi vestirsi bene sotto, avere dei buoni capi di abbigliamento che tengano sicuramente il freddo e l'acqua, guanti, cappello, scarponi adatti per il periodo invernale e poi l'attrezzatura tecnica che può essere dai ramponi, le ciaspole a seconda di quello che uno va a fare e poi obbligatorio è il kit di Arva, Pala e Sonda. Dal gennaio 2022 è obbligatorio questo kit. Questo specialmente sulla neve? Sulla neve. Nell'ambiente nevato, in certe condizioni di pericolo, è obbligatorio portare dietro con sé, saperli usare naturalmente perché portarli dietro e basta, non serve a nulla, Arva, Pala e Sonda. Quanto è utile conoscere anche, essere coscienti delle proprie condizioni psicofisiche, nel senso che a volte ci si avventura così dicendo beh sì ci arrivo ma non sapendo bene quali sono i dislivelli che si affrontano eccetera eccetera, quindi anche da questo punto di vista bisogna avere una certa attenzione. Sicuramente sì, molti degli interventi, parlo non solo come istruttore del CAI ma anche come soccorritore, come capostazione, molti degli interventi che si fanno sono proprio su persone sfinite o che magari li ha prese la notte o che non erano in grado più di procedere perché avevano previsto in maniera errata l'escursione che andavano ad affrontare. Riccardo, responsabile della comunicazione, bisogna queste cose comunicarle, insisterle perché spesso comunicandole bene, sensibilizzando le persone si salvano delle vite umane. Allora la montagna non va presa con confidenza. Certamente, io mi vorrei rifare a una celebre frase di un grandissimo alpinista che è Reynold Messner che in varie occasioni disse «La montagna è bella, il fascino della montagna è dovuto al fatto che la montagna è bella, la montagna è grande, ma la montagna è pericolosa». Cioè, detto da Messner, è tutto un dire, ecco, diciamo che assume un significato molto importante perché è detto da una persona che ha fatto 14-8 mila metri e sentirlo parlare di pericolosità. Ecco, tutto è dovuto comunque, c'è una scala di difficoltà che bisogna valutare nell'ambito della persona. Un alpinista professionista come lui valuterà l'alpinismo. Noi stiamo a valutare i primi approcci alla montagna. Il CAI è sempre stato sensibile a questo tipo di attività, infatti anche la nostra sezione organizza dei corsi per persone che si avvicinano alla montagna e all'ambiente innevato per insegnare, diciamo, le prime fasi, le cose basilari da tenere presenti in qualsiasi situazione. dall'acquisto dei materiali alla progressione sulla neve con le ciaspole, con i ramponi, con lo scarpone, con lo sci d'alpinismo e poi come alimentarsi in un ambiente ritenuto impervio e anche ostile. perché noi non dobbiamo dimenticare che la montagna d'estate è impervia, ma d'inverno è impervia ed ostile perché possiamo incontrare delle temperature estreme, possiamo incontrare delle giornate brutte, il tempo cambia continuamente. diciamo che ecco, il CAI organizza questi corsi per l'avvicinamento in sicurezza, per mitigare il rischio dell'infortunio, perché la sicurezza in montagna non esiste in senso assoluto, ma ce la dobbiamo andare un po' a cercare. insomma, uno degli obiettivi della comunicazione del CAI è quella di far lavorare poco Stefanelli, perché altrimenti anche lui ha diritto a divertirsi, ad andare in montagna per divertirsi e non per stare dietro a qualche spericolato che non ha tenuto conto delle cose. Stefanelli, tu hai parlato appunto di andare sulla neve con attrezzature, vestiario, programmazione, cibo e bevande di un certo tipo. Ecco, vogliamo essere, anche noi, fare un minimo di comunicazione per i nostri telespettatori. Insomma, quali sono, appunto, dal punto di vista, parlavamo di attrezzature, tu alcune le hai citate anche molto specifiche per andare sulla neve. Vogliamo essere ancora più espliciti di che cosa si tratta? Beh, sicuramente la prima cosa in assoluta, a parte le attrezzature che poi verrò a dire, è sicuramente non andare in montagna da soli. Quindi nella programmazione ci sta anche il fatto di programmare un'escursione, una gita o qualsiasi cosa o salita insieme in compagnia. Lasciar detto a casa dove uno sta andando è la prima cosa e poi equipaggiarsi, equipaggiarsi bene. Equipaggiarsi bene non significa anche essere informati su quello che uno sta acquistando o ha acquistato. Quindi si parte dagli scarponi adatti proprio all'utilizzo con i ramponi invernali, quindi che coprono dal freddo, che non facciano passare acqua, ad un abbigliamento, possono anche questo, che non faccia passare acqua, che faccia traspirare, ma che mantenga poi i caldi e asciutti al suo interno. Poi luci frontali, perché molto spesso andiamo a prendere delle persone in difficoltà, perché li coglie la notte e non sanno più dove andare, perché non hanno nessuna torcia o luce frontale che li possa indicare il percorso. Sicuramente poi il cibo, non cibi che diano calorie, quindi che siano adatti per il periodo invernale, tè caldi, bevande calde, perché in inverno le bevande fredde non si riescono a bere, quindi non idratano. E poi sicuramente prevedere una partenza di buon'ora la mattina, ma un rientro altrettanto di buon'ora, quindi che si anticipi la serata e la notte. Una domanda, quelle strumentazioni di geolocalizzazione, forse anche a costi contenuti ormai con le applicazioni, hanno un senso? Sicuramente hanno un senso, molte persone pensano di utilizzare esclusivamente il cellulare, ma molto spesso in inverno il cellulare, le batterie del cellulare vanno rapidamente a zero in pochissimo tempo per il freddo. Quindi bisogna sicuramente adoperare altri strumenti, tipo un GPS con batterie di scorta, in modo tale da riuscire a ritrovare il percorso che si è fatto all'andata ed essere sicuri di poter rientrare tranquillamente alla macchina. Hai parlato di cibo, quando si parla di cibo energetico c'è un problema quando si va in montagna tra il peso che ci si porta dietro e diciamo così le energie e le calorie sufficienti. Quali sono, parliamo di barrette, parliamo di cose particolari? Parliamo proprio di barrette, è inutile portarsi dietro una bistecca, è molto più comodo portarsi delle barrette energetiche che diano tantissime calorie e sostentino il corpo durante l'escursione. In inverno c'è il freddo e quindi il corpo tende a bruciare molto di più che in estate per mantenere il calore interno del corpo. Ecco, abbiamo parlato appunto delle escursioni in montagna, della sua pericolosità e ovviamente delle intemperie che si trovano. Il clima è in rapido mutamento, passiamo da giornate caldissime a giornate rigide. Ecco, quanto influisce il clima rispetto alla voglia, alla mentalità, all'approccio che dobbiamo avere con la montagna? È sicuramente cambiato tantissimo. Negli ultimi dieci anni si sono visti dei cambiamenti enormi nel clima. le temperature sono salite di un grado, quasi due gradi in inverno a tutte le quote. E questo ha portato dei cambiamenti soprattutto nelle nevicate. Mentre una volta le nevicate avvenivano durante tutta la stagione invernale, ora abbiamo degli eccessi. Quindi lunghissimi periodi senza nevicate, e poi improvvisamente in uno o due giorni delle nevicate veramente eccezionali. E questo quindi ha cambiato le problematiche, perché i rischi delle valanghe sono molto più alti in inverni proprio come questi, in cui c'è poca neve, ma che poi improvvisamente il manto nevoso cresce in maniera sensibile. L'alternarsi dei periodi di grande siccità a quelle giornate piovosissime che rischiano di riempire in un batter d'occhio i canaloni e di farsi trovare davvero in estrema difficoltà, anche questi bisogna tenere la grande attenzione. Anche questi sono gli eccessi da tenere in considerazione, sicuramente sì. Quanto è importante la comunicazione, Riccardo? Tu ci stai impegnando parecchio sotto questo fronte, perché si vede che ci credi a questa cosa. Sì, la comunicazione è importante perché altrimenti le persone non sanno che esiste un'associazione, nella nostra città esiste un'associazione che è predisposta per aiutare le persone, aiutare o accompagnare le persone che vogliono entrare nel mondo della montagna. A volte c'è una sottovalutazione della montagna, c'è un'improvvisazione, non c'è una preparazione adeguata, le persone vanno e si trovano in difficoltà. Noi dobbiamo ricordare che la nostra montagna, pur essendo un appennino, è piena di insidie. È piena di insidie perché non è vero che le valanghe non avvengono. Le valanghe avvengono e come sull'Appennino? Ne abbiamo degli esempi anche abbastanza vicini nel tempo. Ci sono state delle valanghe nella zona dell'Alpe di Succisa che hanno portato via addirittura un bivacco, il bivacco Rio Pascolo. C'è stata una valanga pochi anni fa sulle piste del Cereto che ha coinvolto uno sci alpinista che è stato tirato fuori, diciamo, proprio negli ultimi istanti utili perché si salvasse la vita. Queste sono le realtà. Non avvengono spesso e volentieri come avvengono sulle Alpi, però ci sono anche nell'Appennino. E bisogna sapere e valutare adeguatamente le condizioni per non trovarsi in difficoltà. La comunicazione serve a questo. Noi chiediamo, imploriamo le persone a non andare da sole prive di esperienza. Li chiediamo di venire nel CAI per conoscere i segreti, ma non sono poi segreti, diciamo, le caratteristiche da affrontare per poter affrontare con una certa sicurezza la montagna. E questo, gli accompagnatori titolati del CAI sono in grado di garantire alle persone che vengono. Quindi aspettiamo tutti i neofiti, tutte le persone che si avvicinano alla montagna per dare le giuste indicazioni. Riccardo, noi ovviamente siamo sempre disponibili perché è un servizio che facciamo volentieri non solo al CAI, ma ai cittadini che ci ascoltano. Però è chiaro che non tutti vedono la televisione oppure potrebbero coglierla in questo attimo facendo uno zapping. Ci sono siti, internet, dove si possono recepire queste informazioni in qualche modo e comunque un'informazione sicura, che è quella di dove trovarli? Sì, sicuramente. Il nostro sito è www.cailaspezia.it nel quale potrete trovare tutte le informazioni utili per affrontare appunto l'argomento che abbiamo toccato oggi ma non solo, anche altri argomenti come anche attualità, anche uscite, anche gite, escursioni, corsi e tutte quelle cose propedeutiche all'avvicinamento alla montagna. Quindi anche a fare un po' di esperienza insieme agli anni. Oppure venire nella nostra sede per avere dei contatti diretti che noi ci troviamo in via Napoli, angolo via Castelfidardo e la nostra sede è aperta il martedì, il venerdì nel tardo pomeriggio e il giovedì in serata dalle 21 in poi. Quindi vi aspettiamo per conoscervi e per farci conoscere. L'indirizzo del sito, vogliamo ripeterlo? www.cailaspezia.it Benissimo. Una chiacchierata che è stata sicuramente utile ha comunque dato dei rudimenti. Io direi, Presidente, a te tocca il compito di fare delle raccomandazioni con il solito obiettivo che anche Stefanelli possa godersi la montagna e non affannarsi per salvare degli sconsiderati. Certo, il pomeriggio di oggi l'ha dedicato proprio a preservare il tempo libero di Stefanelli. No, bisogna stare attenti. Il tema che avete toccato, quello del cambiamento climatico, è quanto mai pressante perché vediamo delle stagioni che non riconosciamo più. Quindi tutto quello che sapevamo in questo momento non lo sappiamo, non vale più. Bisogna continuamente continuare a prepararsi e a studiare. E una delle cose più importanti che posso raccomandare è imparare bene a usare l'ARBA, che è questo strumento che ora è indispensabile dal gennaio del 2022 e non è nient'altro che una ricetrasmittente capace di dare la posizione esatta ad una persona che può finire sotto una valanga. Non è di facile intuizione la programmazione di questo strumento. Quindi preparazione a casa e magari anche passare in sede da noi quando ci sono delle difficoltà per farsi aiutare prima di partire. E questo perché è importante veramente fare prevenzione in questo momento. C'è la vita delle persone che vanno a godersi una bella giornata. C'è anche il lavoro del soccorso alpino che spesse volte porta le donne e i uomini del soccorso in situazioni di estremo pericolo. Insomma, sarebbe bene anche riuscire a evitare queste cose. Bene, ringraziamo i nostri ospiti per questa chiacchierata, secondo me, molto interessante e proficua. Quindi ringraziamo Alessandro Bacchioni, presidente, Emanuele Stefanelli, istruttore nazionale del CAI e Riccardo Micheli. Ci diamo appuntamento perché so che state preparando delle altre iniziative davvero interessanti, uno per rendere fruibile la montagna anche alle persone con disabilità. E questo merita davvero di essere sottolineato e avremo modo allora di rincontrarci per raccontare anche questa avventura che vi state preparando a vivere. Grazie davvero. Con grande piacere, grazie a voi. Grazie.